Prima di scoprire la composizione dei vari kit disponibili per i nebulizzatori geyser è importante capire come dimensionare un impianto di nebulizzazione. Gli impianti di nebulizzazione sono composti dai tubi da 4 mm, dai raccordi che possono essere a T come questo, a 90 gradi o dritti e dagli ugelli di nebulizzazione ultra fine. Le nostre geyser hanno tre uscite per la nebulizzazione, quindi io posso andare ad installare una sola linea ad esempio partendo da una di queste uscite, mi collego col tubo e a partire da questa andrò ad installare tanti tubi e tanti ugelli quanti me ne servono per coprire l'area che voglio andare a trattare. Le altre due uscite sulla macchina posso lasciarle aperte con degli ugelli o posso andare a tapparle con i tappini di chiusura che sono quelli che vado a mettere anche al termine della mia linea. Un'altra cosa che posso andare a fare è quella di creare due linee dirette, quindi su una prima uscita andrò ad attaccare un tot di metri di tubo e sull'altra uscita posso andare a fare la stessa cosa. E questo ovviamente lo posso fare fino a tre volte, quindi posso fare delle linee dirette su ciascuna delle tre uscite. Un altro sistema interessante di impostare una linea di irrigazione è quella di andare a creare degli anelli. Questo cosa significa? Posso decidere di partire da una sola linea, come in questo caso, e dopo la prima porzione di tubo vado ad inserire un raccordo a T in questo modo. Dopodiché andrò a creare un anello collegando altri tubi e in questo modo posso distribuire bene la pressione e ottenere una buona nebulizzazione. Per avere un effetto ancora migliore posso andare a creare un anello che entra ed esce da due uscite, quindi in questa maniera qui. Ora te lo faccio vedere solo con due tubi per semplificare e in questo modo riesco ad avere una distribuzione della pressione all'interno del mio circuito ancora migliore. Questi sono i metodi con cui noi ti consigliamo di installare questi kit sulle nostre geyser. E ora sta a te, vuoi approfondire e scoprire quello che è il kit base o vuoi vedere il kit pro? Grazie a tutti.